Io praticamente rappresento una ventina di famiglie che si trovano nella mia stessa situazione, che non riescono a pagare l'affitto e poi dopo diciamo praticamente tutta l'associazione, il padrone di casa che manda in tribunale e poi la situazione come l'ha spiegato deve andare in tribunale e poi ti danno tre mesi e poi dopo tre mesi ti arriva il primo avviso, poi il secondo avviso, poi ti arriva le forze d'ordine per portarti fuori. Dopo le forze d'ordine che cosa succede? Succede che ti trovi per strada, che succede se non riesci a pagare l'affitto, diciamo praticamente uno che c'è e mezzi per pagare l'affitto, è meglio che sta a casa sua, non è che va fuori, è una cosa normalissima. Io e lui tre mesi fa abbiamo parlato col vice sindaco, ci siamo stati per mezz'ora in piazza Palazzo di Città, il vice sindaco diceva tutti quelli che sono sfrattati non sono che viene buttato fuori, il giorno che viene l'ufficiale sbattolo fuori, noi la prendiamo e la mettiamo in albergo a carico del comune. Questa cosa qua l'ha detto il vice sindaco, noi non vogliamo che ci pagano gli albergo, ci danno questi alloggi sfitti, li mettiamo a posto e ci mettiamo dentro, o ci danno i nostri contributi che abbiamo versato e ce ne andiamo via. Perché non ce la facciamo più, non ce la facciamo più, tutto lì, che poi qualcuno dei nostri lavora con due euro all'ora, ma certo che la gente vanno a robare, perché non trovano lavoro? C'è anch'io se non trovo, lo dico onestamente, se non trovo lavoro per mantenere la mia famiglia, anche io vado a robare, è logico, come faccio a mantenermi? Vado a bussare le pote in solo chi mi ha dato a mangiare? Cosa vado a chiedere la mozione in giro? Comunque non ce la facciamo più. Perso il lavoro non è più riuscito a pagare il mutuo? Il mutuo a dire a casa, anche il mestratore non paga. Dopo cos'è successo? Dopo arriva il sfratto. Questa è la notifica, questa qua per esempio è la notifica dello sfratto. Questa è la notifica di sfratto. Guarda cosa fa questo sfratto, fa il venti, pur io andare la causa, lui sgompri la casa. E loro volevano dargli questa data, così quando lui è in tribunale vedono la casa vuota, entrano e la sequestrano. E' questo che voleva dire. Comunque arriva a trovare la famiglia all'autostrada? Quanti siete nella famiglia? Cinque. Anche mio figlio, questa causa, vuole un dono al cervello. Parlando con il dottore in estate, il suo cervello era diminuito come di un bambino di cinque anni o di quattro. Anche io per questo problema sono stato bocciato a scuola. Grazie. Grazie.